Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Piepoli di oggi, domenica 13 ottobre 2024. L'effetto Meloni sull'economia. Il 71% dei cittadini nel sondaggio è ottimista per la situazione economica che considera stabile o in crescita e di 40% è convinto che sia merito del governo. Ed è anche per questo la Meloni la leader più amata dopo il presidente della Repubblica Mattarella che avrebbe il 70%, Giorgia Meloni viaggia sul 42%, seguita poi da Tagliani 34, Conte 30, Schlein 29, Salvini 24, Bonelli Fratoianni 21, Calenda 18, Lupi 16, Matteo Renzi e Maggi 14%. All'interno di Fratelli d'Italia il più amato è la russa con il 29%. Grazie a tutti, arrivederci a presto.